Ciao ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video Prima di tutto scusate per la qualità del video perché non sto registrando con la solita videocamera ma sto utilizzando la webcam del computer sto registrando in diretta in poche parole con il sistema di inquisizione inquisizione di youtube e niente, volevo prima di tutto sponsorizzarvi un canale allora, il canale che voglio sponsorizzare è quello di ZP Entertainment troverete il link del suo canale qua sotto nonché nella sezione dei canali consigliati del mio canale e niente, è un canale che si occupa di retro game forse è il miglior canale in Italia che si occupi di questa cosa, a mio avviso è un canale che dovete assolutamente andare a vedere iscrivetevi e ditevi che vi mando io come al solito sì però diteglielo, non è che andate lì e vi iscrivete a cazzo poi non vi dite un cazzo, andate lì e vi iscrivete e vi dite che vi mando io bene, in questo blog, un po' così giusto per passare il tempo volevo parlare un po' di quella tragedia che si è verificata in questi giorni per noi giocatori online della Playstation di questo benedetto attacco hacker che è avvenuto qualche giorno fa e niente, volevo parlare un po' con voi e vedere di capirci qualcosa dunque, cominciamo da qualche sito magari, vediamo cosa dicono qua siamo su Rave News, informazione che vale qua c'è un post su questo blog che dice da due giorni, ormai un po' di più penso una tragedia si sta compiendo online non c'è possibile giocare all'interno del Playstation Network della Sony per chi non gioca in rete in modalità multiplayer questo fatto può risultare secondario rispetto alle altre tragedie contemporanee giustamente direi io anche perché stanno succedendo cose ben peggiori di un attacco hacker a PSN ma i 70 milioni di giocatori utenti del network Sony realmente se la stanno prendendo male fin qua non c'è dubbio per loro in queste ore il conforto delle novità apparsa dal blog ufficiale Colosso Sony infatti dopo quasi due lunghissimi giorni di silenzio la Sony ha finalmente confermato che il blackout della sua rete di videogiochi per le console PS3 e PSP dipendono dall'attacco effettuato da parte di non meglio identificati hacker dunque, noi sappiamo benissimo che il nemico numero uno della Sony sono un gruppo di hacker chiamati Anonymous però questi Anonymous dicono che loro non c'entrano niente non sono assolutamente dietro questo attacco e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa nonostante su internet tale rassicurazione fiocano le proteste anche esteriche e plateali da parte degli utenti del PS Network privati della loro rete di gioco ma chi sarà mai così insensibile e crudele da privare del tutto del loro gioco a tutti questi giocatori che certo con la loro passione non fanno male ad alcuno un colosso giapponese nel suo blog parla genericamente di una intrusione esterna senza fare nomi invece la stampa specializzata online ha fatto il nome del gruppo Anonymous ma diretti interessati che effettivamente hanno avuto dei precedenti scontri con la Sony sulla loro pagina di Facebook attraverso le loro sezioni pubbliche relazioni chiamata ANOPS ossia Anonymous Operation smentiscono decisamente il proprio coinvolgimento nella vicenda bene, adesso secondo voi adesso vi chiedo di rispondermi magari nei commenti o con un video risposta a questo video vedete un po' voi secondo voi perché un gruppo di hacker ha attaccato la Sony indirettamente cioè non andando a colpire il sito principale o le banche dati della Sony e quelle cose lì ma il sistema PSN ovvero impedisce di giocare a noi di giocare online secondo voi qual è la motivazione? cosa c'è sotto? io non mi come si dice non mi esprimo perché non ho penso che sia una questione di soldi perché sicuramente tra pubblicità e cose varie con PSN sicuramente la Sony ci guadagna e forse attaccando qua si crea un malcontento generale per i giocatori mi stavo spostando un po' troppo e quindi penso che la motivazione sia quella secondo voi qual è? rispondetemi qua sotto e ditemi però vediamo se adesso riusciamo a trovare qualcos'altro Notebook Italia questo è un post che risale a qualche ora fa il peggio è sempre passato PSN lo tornerà funzionante nei prossimi giorni con accessibilità graduale in Giappone, USA e Europa una delle notizie proseguita in questo lungo weekend pasquale è stata senza dubbio quella delle relative sorti di PlayStation Network la rete utilizzata dai giocatori di PlayStation violata da un attacco hacker non identificato l'azienda giapponese dopo un primo timido tentativo di ristabilire i servizi PSN ha pubblicato un posto sul blog ufficiale aggiornandolo nel corso delle ore per informare i memberi della community PlayStation di chiedere ulteriore pazienza secondo gli ultimi aggiornamenti riportati ieri i sistemi PlayStation Network saranno offline finché i tecnici Sony non riusciranno a ripristinare il database ma soprattutto a potenziare la sicurezza del server quindi noi qua capiamo che probabilmente adesso PSN sarebbe già funzionante ma la Sony ha deciso di non renderlo utilizzabile finché non aumenteranno le difese e non sarà più sicuro a mio avviso nessun sistema è a prova di hacker cioè secondo me se qualcuno che ne sa vuole può attaccare qualunque sistema ma senza problemi quindi secondo me queste protezioni sarebbero comunque inutili l'azienda nipponica infatti promette un nuovo PSN PS Network più sicuro e più stabile in grado di bloccare attacchi informatici come quelli avvenuti qualche giorno fa Anonymous qua ripete Anonymous da parte sua ha declinato qualsiasi responsabilità sull'accaduto non escludendo però che l'attacco sia stato inferto da altri pirati della rete a distanza ad alcune ore arrivano nuove informazioni sullo stato di PSN grazie a un'intervista ad alcuni dirigenti Sony la risposta è stata piuttosto vaga ma comunque preziosa PlayStation Network potrebbe ritornare online tra martedì e il prossimo fine settimana alcuni utenti ben informati sostengono che PlayStation Network torna in attività domani in Giappone mentre gli utenti USA e europei dovranno aspettare giovedì prossimo ancora qualche giorno d'attesa dunque bene speriamo un po' adesso non so se si riesce a trovare qualcos'altro non penso attacco hacker al PS3 niente va bene allora che dire qual è la vostra opinione siete incazzati non siete incazzati non ve ne frega niente ditemi voi appunto rispondetemi magari con un video risposta o comunque con un commento qua sotto e fatemi sapere le vostre opinioni su come mai questi hacker possono aver attaccato il sistema Sony eccetera bene aspetto le vostre risposte ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao